crutch mindset benvenuti cari amici del canale dump at rugby e tanto che non facciamo un video registrato perché abbiamo fatto un sacco di live fighissime tra l'altro sia quella con ottavio che quella con lorenzo grazie veramente a tutti quanti voi che avete partecipato e avete reso le live le live vive tra l'altro questo fine settimana per la prima volta da un bel po di tempo non ci sarà live perché non c'è il benetton non ci sono le zebre non ci sono finali tornerà tornerà il rugby si avvicina l'estate si avvicina l'estate un periodo un po più un po più morto ma ci saranno tante cose d'estate perché ad esempio c'è la coppa del mondo di seven ci sono un sacco di cose e come capita spesso poi devono ancora finire scusate devono ancora finire il campionato francese il campionato inglese la urc eccetera eccetera però come capita spesso l'estate ad esempio se prendiamo un altro sport che a qualcuno sta un po più simpatico a qualcuno meno nel mondo del rugby a me onestamente sta simpatico non ne ho assolutamente niente in contrario a farla da padrone il mercato il mercato e allora oggi mi sento un po di marzio no 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 scoop non ho numeri di procuratori sul telefonino no 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 non vi darò nessuna grande notizia semplicemente farò un bel riassunto di quello che si sa fino ad oggi del rugby mercato del benetton e del rugby mercato delle zebre e subito disclaimer se ci sono degli errori perdonatemi e aiutatemi a correggerli perché a differenza del calcio nel rugby non è che sia proprio semplicissimo trovare tutte le informazioni non è come nel calcio che ti dicono valore del contratto svincoli bonus per quanto ha firmato per come non ha firmato per esempio sarebbe interessante sapere anche le cifre le cifre ma non ce le dicono per adesso magari cambierà anche un po il mondo il mondo del rugby e allora andiamo a vedere innanzitutto benetton e poi vediamo le zebre dove la situazione è leggermente più complicata benetton per adesso ha fatto un mercato molto molto oculato sia in entrata che in partenza probabilmente non è ancora finito non è ancora finito il mercato forse ci sono ancora delle dei pezzetti da sistemare ma allora iniziamo dalle entrate e poi e poi le uscite o il contrario forse ha più senso forse ha più senso fare il contrario vabbè allora iniziamo dalle uscite dai iniziamo dalle uscite io qua nel file mi ero segnato prima le entrate dopo le uscite ma iniziamo dalle uscite allora uscite un paio abbastanza pesanti sicuramente anzi io direi tre pesanti e altre per quello che si è visto questa stagione un po' meno però la storia per la storia dei giocatori anche con il loro peso la più diciamo le più pesanti sono sicuramente quelle dei nazionali ossia di di brale di faiva e poi anche quella di herbst bralei e faiva lo sappiamo bralei ha deciso di dare un cambio totale alla sua vita non si trovava in italia per mille ragioni ha deciso di rinunciare di rinunciare anche alla maglia della nazionale italiana e non solo a quella del benetton rugby se ne torna in inghilterra gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo con un pizzico di di amarezza per quello che ci ha fatto vedere nelle ultime nelle ultime giornate nel senso che dentro ci siamo detto caspita ma se se il punto di partenza di bralei era questo e tra l'altro un giocatore che ha fatto così tante presenze nel campionato inglese sicuramente scarso non è se il punto di partenza di bralei era questo o quello della partita col galles ma e vabbè però scelte di vita grande in bocca al lupo ciao caldo poi faiva faiva allora bralei se ne va ai saints faiva invece se ne va ai worcester warriors due giocatori in direzione campionato inglese faiva è molto probabile che invece sì che lo vedremo anzi anche senza di molto probabile convocato da crowley sì che lo vedremo eh con la maglia della nazionale italiana eh poi herbst l'addio di herbst è un giocatore importantissimo per il benetton abbiamo eh poco da 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 dire di più insomma chi chi ha visto herbst lo lo sa e poi che se ne va gli harlekins poi eh altri addi un po' meno pesanti diciamo per esempio gioicaputo un po' meno pesante perché praticamente non si è visto sembra che l'anno prossimo giocherà a mogliano vediamo se potrebbe rientrare magari come permit a stagione in corso così come gli arifantini anche per gli arifantini si dice mogliano per adesso e eh nella nazionale nella nazionale di seven come tra l'altro come tra l'altro gioicaputo e come petrozi ehm Tommy Baravalle ci lascia dopo un po' di anni anche il tallonatore argentino ehm multi multifase poliedrico diciamo polivalente eh l'abbiamo visto impegnato anche nel ruolo di pilone e non si sa onestamente dove dove vada per adesso un'opzione di cui si era parlato e che potrebbe tornare in Argentina Tommy Bell altro giocatore che ehm non non è che abbia lasciato un ricordo più indelebile di questa stagione eh l'inglese se ne va e non si sa anche lui ancora dove ci lascia attenzione Tommy benvenuti Tommy benvenuti e tra i giocatori rilasciati eh tante stagioni al Benetton adesso non ho qua il dato ma credo un sette otto eh un passaggio un passaggio per l'USAP eh nella sua carriera un passaggio dall'USAP nella sua carriera ehm e probabilmente ci sarà un approdo in top ten per lui anche qui non si è ancora non si è ancora dato il nome parlavamo di giocatori convocati con la ehm con con la nazionale di Seven appunto anche Luca Petrozzi Luca Petrozzi lascerà è stato già comunicato e eh per adesso abbiamo tre mediani di mischia vediamo se Treviso andrà con tre o cercherà il quarto che potrebbe essere Manfredi Albanese per adesso abbiamo Duvenage Alessandro Verbisi e Hidalgo Klein adesso andiamo a parlare degli arrivi eh se ne va anche Luca Sperandio eh almeno così sembra un'opzione no così sembra è stato annunciato anche lui tra i partenti quindi se ne andrà eh però non è ancora stato annunciato il destino e allora potrebbe essere un'idea vediamo un po' il balletto delle delle ali adesso anche dopo il caso fiamme oro zebra ne parleremo quando parliamo delle zebra e vediamo ad esempio un'opzione potrebbe essere eh che si potrebbe accasare alle zebra e non parliamo assolutamente di un giocatore a carriera molto avanzata ventisei anni spera Dio quindi ehm si spera si spera in Dio che resti nel rugby di alto livello eh i allora arrivi eh andiamo subito velocemente a parlare di alcuni dubbi e poi andiamo a vedere le conferme eh innanzitutto la situazione dei permit ehm saranno probabilmente a Longi, Piantella, Izacor e Meggiato vediamo se il loro status di permit verrà cambiato in un contratto definitivo per adesso questi sono i permit previsti per la stagione prossima e e poi c'è qualche dubbio per esempio in attesa di rinnovo eh Franco Smith Junior ehm è stato prestato alle zebra a fine campionato ha fatto vedere delle cose buone delle cose meno buone vediamo se tornerà se tornerà alla base e poi Bellini Bellini anche lui è venuto a Treviso per tre partite eh le ha fatte ha fatto le sue discrete partite alla fine del podcast gli abbiamo chiesto ma resti non resti forse lui ha detto forse e da quel forse non ci siamo ancora sbloccati stiamo aspettando notizie da parte della società e e allora andiamo a vedere gli arrivi che è quello che interessa alla gente ovviamente dopo aver salutato eh chi ha dato tanto alla maglia bianco verde e chi ha dato anche un po' meno ma averli salutati tutti eh ovviamente il calcio il calcio stavo dicendo il calcio mercato il rugby mercato la cosa che più stuzzica è sapere chi arriva e allora chi arriva vabbè ormai è di qualche mese la notizia di Sam Hidalgo Klein proveniente dagli Exeter Chiefs eh completa il reparto dei mediani di Mischia verrà chiamato questo quarto verrà chiamato Manfredi Albanese vediamo perché per esempio Petrozzi quest'anno però Manfredi Albanese è già è stato convocato con la maggiore quindi una soluzione di eh di rilievo deve essere trovata per lui c'è molto traffico alle zebre è probabile che arriverà però allora dei quattro bisognerà fare sì perché non ci possiamo permettere che uno tra due naghi Dalgo Klein ehm Manfredi Albanese Garbisi quattro giocatori realmente di spessore che ne resti uno come quest'anno Petrozzi a giocare praticamente mai e allora vediamo le soluzioni che che verranno scelte il fatto che non sia stato ancora annunciato potrebbe anche riservare qualche sorpresa magari qualche club aspetta di vederlo impegnato in nazionale per decidere vediamo se va all'estero non lo so comunque c'è questo dubbio Manfredi Albanese ehm per quello che riguarda invece Dalgo Klein è un giocatore che a me piace parecchio io ogni volta che l'ho visto ho sempre detto mamma che bravo questo giocatore eh nato in Spagna ventotto anni nel pieno della della maturità sportiva eh quest'anno ha giocato comunque le sue undici partite a Exeter eh da quando è andato via dalla Scozia ha iniziato a girovagare un po' eh Queens eh Racing 92 Lione e poi appunto Exeter in nazionale dove comunque è nel giro della nazionale ha fatto ad esempio la Autumn Nation Cup adesso sembra chiuso sembra chiuso da Ali Price Ben White e Wallacott più anche qualche altro nome dietro eh e quindi probabilmente anche in quest'ottica è stato preso dal Benetton sia Benetton che Zebra hanno cercato giocatori che non rischino di sparire durante eh il tourbillon che ci sarà quest'anno tra le finestre il sei nazioni e il premondiale quindi probabilmente Dalgo Klein soprattutto in quel periodo sarà completamente a disposizione e giocatore d'uttile in estremo bisogno può fare anche l'ala l'altro giorno nella chat qualcuno ha detto addirittura l'apertura io non lo ricordo da apertura sono anche andato a cercare mille statistiche non mi sembra però magari ha a partita in corso ha fatto qualche cambio qualche cambio all'apertura interessante poi va bene vengono promossi ma questo non è una notizia vengono promossi eh i giovani Menoncello, Garbisi, Nicotera, Dare, Drago e Drudi questi giocatori vengono promossi a eh Leoni a pieno titolo con con contratto e tutto insomma alcuni di questi quest'anno sono stati grandi grandi protagonisti della stagione eh di quelli che ho nominato Menoncello e Nicotera su tutti ma anche Drago nel finale della stagione e e anche da re è stato per più di una partura l'apertura del Treviso poi sempre dall'estero Scott Scrafton Scrafton dagli Hurricanes tre anni di contratto per lui giocatore eh anche lui nel pieno della sua maturità reggistica 29 anni le le dimensioni sono interessanti due metri per 120 chili di seconda linea eh profilo di giocatore affidabile e treviso probabilmente ha bisogno di avere delle delle sicurezze no delle valvole di sicurezza giocatore affidabile eh in periodo sei nazioni quest'anno non è che abbia giocato tantissimo con gli Hurricanes ha giocato quattro partite di cui tre da titolare eh non è per esempio nei ventitré che giocheranno tra un paio di giorni il quarto di finale con i Brambis la sensazione che sarà un giocatore simile come profilo a Herbst sia come mobilità non troppa ecco né per lui né né per Herbst che come solidità invece quella sì sia per lui che per Herbst eh quindi diciamo un un possibile sostituto di Herbst sette anni in super rugby sette anni in super rugby non sono pochi eh era stato baby baby black con i junior old blacks eh in Nuova Zelanda sappiamo quanto siano importanti le skill per sopravvivere sette anni nel super rugby in una franchigia neozelandese male non deve essere e e quindi vedremo vedremo comunque un acquisto funzionale ecco facendo sta lista mi è venuta in mente una cosa oh ragazzi è una seconda linea cioè tra Pavanello e Bortolami sapranno scegliere le seconde linee sapranno scegliere le seconde linee quindi fiducia fiducia al nostro direttore sportivo e al nostro allenatore cioè se non sanno scegliere le seconde linee loro ok poi è l'ultimo la bomba la bomba degli ultimi giorni Onisiratave dai Fijandrua un'ala figiana giocatore tutto da scoprire quest'anno è stato il suo vero primo anno di visibilità eh pro con i Fijandrua ehm Wikipedia ci dice che è un pompiere è strano perché il suo primo anno veramente da pro l'ha avuto a ventinove anni adesso non ricordo esattamente l'età ehm però siamo lì quindi insomma prima ha un po' alternato no la la l'ammatorialità credo con il eh con un rugby a più alto livello quest'anno invece è entrato nel progetto di Fijandrua eh ha fatto sei mete in cinquecentotrentatré minuti eh quindi quindi non male ha giocato undici partite di cui cinque da titolare non è né nazionale figiano a quindici né flying Fiji a seven occhio perché questo sarebbe potuto essere un problema perché quest'anno ci sono i mondiali anche questo è importante tra l'altro un'ala quindi figiani ale ce ne sono quattro milioni difficile che anche se faccia benissimo a treviso lo chiamino con con le Fiji quindi abbiamo bisogno di giocatori che non se ne vadano durante le finestre nazionali e che non inizino a tirare il freno a mano prima dei mondiali eh acquisto simile diciamo un acquisto funzionale ecco funzionale e poi come tutti i figiani è enigmatico è un enigma non lo sappiamo eh speriamo che Rattuva lo aiuti ad ambientarsi non troppo non troppo Rattuva calma calma non fare troppo tardi la sera lasciare scerto speriamo che Rattuva lo aiuti ad ambientarsi e e siamo curiosi di vedere di vedere questo enigma risolto per adesso mi sembra un buon regmi mercato del Benetton fatto in maniera molto molto culata per costruire una squadra migliore rispetto a quella di quest'anno io credo che Idalgo Klein Idalgo Klein potrebbe essere veramente un grande grande valore ehm acquisito e e per il resto fiducia allo staff ehm poi come sempre si dice in queste occasioni magari i migliori acquisti quest'anno sono i vari Menoncello Drago Marin con un anno in più questi sono magari i i i veri grandi acquisti no nel calcio di solito lo dicono i presidenti quando non voglio ne spendere dicono non so adesso quest'anno purtroppo dal mio Torino molto probabilmente se ne andrà Belotti si parla del Monza però per anni Cairo ha detto il miglior acquisto di quest'anno che abbiamo trattenuto Belotti ecco il miglior acquisto di quest'anno per il Benetton Treviso e che abbiamo trattenuto un bel po' di giocatori per adesso poi speriamo che non ci siano ehm o o o no speriamo ma vediamo se non ci sono delle bombe last minute come l'hanno l'hanno scorso con Gargisi Zebra per le Zebra è molto più complicata la situazione eh c'è un eh è un progetto in divenire ci sono tanti nomi il la rosa è ancora molto strana ci sono tantissimi piloni sinistri per adesso quindi sarà da sfoltire da quella parte lì anche la situazione dei mediani di mischia eh oggi è uscito un rumor sul discorso fiamme oro Zebra ne parliamo alla fine insomma è una situazione molto più complessa molto più complicata dove anche il rugby mercato delle Zebra non dà una linea così chiara e precisa come quello del Benetton però allora andiamo anche qui iniziamo da chi lascia per poi ehm vedere chi arriva allora lascia Fabiani direzione Colorno Tuivaka che va al Racing 92 ma 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 vediamo vediamo se al fianco di Finn Russell diventa un diventa un altro giocatore io onestamente per quello che ho visto quest'anno alle Zebra ho i miei seri dubbi qualcuno dice se l'ha preso il Racing sarà bravo lo vediamo eh lo voti va al Colorno eh Bisegna anche lui al Colorno c'è tutta una pattuglia di giocatori che vanno al Colorno eh Edoardo Beio e non è confermato ma lo si dà verso verso i Saracens eh così come non ho trovato ancora le conferme però ci sono delle delle voci magari poi ditemi nei commenti se invece sono cose già confermate Ceciliani verso il Calvisano Di Giulio verso il Colorno Fischetti ha fatto lo spoilerone Kieran Crowley nella conferenza stampa che ha detto lo vedremo ai London Irish il London Irish non l'hanno ancora annunciato vediamo ma è molto probabilmente che sia il London Irish eh Palazzani verso il Calvisano Tuivati verso il eh Valoragbi eh Gian Marioli che se ne va a Worcester e Maxime Banda che se ne va a Colorno abbiamo detto del caso Fiamme Oro le Fiamme Oro hanno richiamato alla base i suoi i propri tesserati che erano dati come permit alle Zebre però erano permit particolari perché erano impianta stabile con le Zebre si allenavano e giocavano sempre con le Zebre e e quindi gli hanno messi di fronte a una scelta un out out fai il poliziotto o fai eh il poliziotto giocatore di rugby o fai solo il giocatore di rugby scelta particolare perché uno dice bene devo decidere perché magari rinuncio la la carriera nella polizia dura anche dopo la fine della carriera quindi il famoso posto fisso però magari qualcuno non ne frea niente di fare il poliziotto nella sua vita o anche eventualmente di entrare di entrare nella struttura sportiva a lungo termine delle Fiamme Oro e quindi sono stati messi di fronte a una a una decisione sembra oggi da un rumor ripeto è un rumor io non ne so veramente niente ma quello che diceva questo rumor era eh Fusco, Licata, Bianchi e Nocera eh potrebbero dimettersi da poliziotti e quindi restare probabilmente alle Zebre e ehm e mentre invece Canna attenzione Canna, Biondelli, Stoian e Donofrio continueranno ad essere eh poliziotti a tempo pieno poliziotti eh rugbysti a tempo pieno giocando quindi in top ten nelle Fiamme Oro. Vediamo se questo prevede anche eventualmente delle finestre da permit cioè dove si allenano magari con le Fiamme Oro, giocano con le Fiamme Oro però come accade eh a volte possono in in momenti eh particolari magari durante i sei nazioni andare eh a dare appunto manforte alle alle Zebre eh per quello che riguarda invece gli altri dubbi per adesso l'unico dubbio che non è stato ancora risolto è quello di Chris Cook eh non è ancora stato annunciato se se parte o se resta eh c'è abbiamo detto al mediano di Mischia hanno eh ne hanno in questo momento cinque perché hanno Casiglio eh Ratko Jelic eh ma Violi eh Cucca per l'appunto e Fusco quindi vediamo magari qualcuno partirà sempre con il dubbio Manfredi Albanese dove andrà e e vediamo invece chi arriva allora anche qui arrivano 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 eh ribaldi eh vabbè ci sono i contrattualizzati cioè quelli che erano già le Zebre quindi ribaldi eh Pittinari e Simone Gesi che vengono contrattualizzati dalle Zebre eh arriva Guido Volpi Guido Volpi eh una terza linea che una vita tra Doncaster e Ospreis andando avanti e indietro tra Doncaster e Ospreis eh realmente non ha praticamente mai giocato da titolare con Ospreis quando quando è stato con 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 la con la franchigia ventisei anni proveniente dal Cook un un club argentino dell'area dell'area di Buenos Aires uno e novantatré per centododici chili non sembra un profilo di primo piano per adesso però è anche difficile giudicarlo però già il fatto che agli Ospreis quando ci andava non lo facevano giocare titolare praticamente mai probabilmente è un indicatore italianizzabile ehm vediamo ci sono tante terzelline italiane vediamo vediamo questo italo argentino eh come performerà. altro profilo che non sembra proprio di prima scelta è il sudafricano Denis Wisser viene da Narbon eh ventinovenne prima ai Citas diciamo che eh anche lui per quello che sono riuscito a cercare non sembra proprio un un profilo di primissimo piano ehm più interessante l'arrivo di Damiano Mazza eh dal Calvisano eh un centro fisico eh fisico attento in difesa vediamo se riuscirà a incidere col salto di categoria eh e poi l'abbiamo detto al a da mediano di mischia eh Ratko Jelic dal via d'ana eh Dutoit eh ecco questo forse è uno degli acquisti più interessanti a BAT quest'anno in premiership ha giocato ha giocato ha giocato praticamente sempre metà da titolare e metà da invece dalla panchina anche lui proviene dalla scuola di Citas vari 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 Citas che stanno arrivando magari c'è Frankino Smith che ci sta mettendo qualche qualche zampino eh ventotto anni ecco questo è un profilo più interessante arriva Sanavia dal Alessio Sanavia dal dal Valoragbi arriva il giovane eh duemila e uno Mohamed Assa dal Petrarca Padova e e poi un altro sudafricano arriva MJ MJ Pelzer eh dai Lions ventitrenne dai Lions però quest'anno due anni fa ha giocato nei Lions eh quest'anno ha giocato nei Golden Lions quindi retrocesso nella squadra di sviluppo sia nella nella carry cup eh ho letto la dichiarazione stampa delle zebbre che dicono che arriva per sopperire alle partenze di Gian Marioli in Bandai e tu i vatti eh va bene va detto che eh da una dichiarazione eh fatta da un Bandà un Bandà un Bandà ha detto che lui non aveva nessuna intenzione di andare via eh gli è stato appunto chiesto di di andare andare via non gli è stato rinnovato il contratto eh non lo so magari non è così magari il giornalista che ha malinterpretato magari qualcuno dirà ecco Danilo dici delle cose che non sai ok allora spiegatele e allora spiegatele perché io l'ultimo Bandà visto nelle ultime partite eh a me non dispiaceva e se si va a prendere giocatori importanti per sostituirlo ok però se andiamo a prendere dei mestiranti non lo so eh cioè Bandà era nell'ultimo gruppo del sei nazioni retrocederlo vuol dire levarlo dal dai mirini dai mirini anche delle varie nazionali ma non lo so non lo so non lo so non lo so tra l'altro sappiamo tutta la storia di Bandà cavaliere del lavoro ha pubblicato il libro insomma anche un personaggio eh che si poteva sfruttare dal punto di vista mediatico eh e poi eh Ruggeri eh arriva Ruggeri da Rovigo Barra Treviso quest'anno aveva fatto il permette a Treviso e e questo è veramente un ottimo arrivo secondo me per le zebra eh le partenze l'abbiamo già dette il il caso Fiamme Oro l'abbiamo già detto il giudizio su quello che stanno costruendo le zebbre è così rimandato rimandato a vedere come finirà come finirà la vicenda Fiamme Oro per adesso mi sembra che le perdite sono molto più pesanti del degli arrivi eh cioè eh Gian Marioli Fischetti eh lo stesso Beio eh Tuivakame non fa impazzire però comunque un giocatore diciamo di un altro tipo di livello eh mi sembrano che queste perdite eh potrebbe non compensate da degli arrivi degli arrivi degli arrivi importanti eh degli arrivi sì Ruggeri Hassan interessanti ehm tutto il resto non lo so 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 magari Jacques Dutoit ma vediamo però secondo me le perdite sono molto più pesanti degli arrivi quindi giudizio lo lasciamo alla fine ovviamente al ragmi mercato non si fanno non si dà le pagelle ragmi mercato ragmi mercato appena iniziato e e così chiudiamo questo capitolo faremo una live con otto dove faremo ragmi mercato anche europeo quindi qualche passaggio importante da una squadra all'altra anche proprio per vedere tutto il panorama europeo e mondiale come si sta eh delineando martedì 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 sera la raffica faremo la raffica tipo proprio di marzo e per il resto e per il resto niente buon eh fischio finale un bacione iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto buon due giugno mi sono dimenticato oggi ormai la giornata sta andando alla conclusione però spero che abbiate passato un bellissimo giorno festivo ciao e a presto ciao